Il prossimo sarà il fine settimana clou per Candelo in provincia di Biella e il suo borgo di Babbo Natale che nel primo weekend ha comunque registrato il tutto esaurito come ci conferma il presidente della Proloco Stefano Leardi che ci spiega anche la manifestazione. Siamo oggi qui nell'ufficio di Babbo Natale, l'ufficio che occuperà 4, 8 e 11 di dicembre e nel quale riceverà tutti i bambini che vorranno venire a trovarlo e a portare qui da lui la letterina con i loro desideri per il Natale. Il borgo di Babbo Natale ha una parte ovviamente legata al personaggio di Babbo Natale e ha laboratori e giochi per i bambini che sono disponibili gratuitamente all'interno del borgo medievale, spettacoli per gli adulti, un bancarello di artigianato di articoli di qualità all'interno delle rue medievali, cioè le strade medievali del borgo e all'esterno del borgo medievale, sulla piazza Castello, un'altra parte di mercatino più generale per tutti i gusti potremmo dire. Un'altra cosa molto importante che avviene nel borgo di Babbo Natale qui a Candelo è il fatto che i bambini possono lasciare la loro letterina a Babbo Natale e ricevere una risposta a casa con un pensiero da parte di Babbo Natale. Vi aspettiamo quindi qui al ricetto di Candelo per il borgo di Babbo Natale. Non mancate!